e allora ancora buongiorno e benvenuti Mas 4 TV quest'oggi in compagnia di Paola Pallotta ciao Paola come stai? Buongiorno Marco buona settimana buon lunedì a tutti bene grazie bene bene allora come annunciato nell'intro oggi puntato un po' particolare perché non rispondiamo una persona precisa ci sono arrivato un po' di richieste di chiarimento soprattutto dopo che il sole 24 ore ha pensato bene di mettere un po' di serenità di tranquillità che ha un mutuo insomma di dirgli vai tranquillo va tutto bene e infatti titola mutui shock sul variabile così la rata più cara fino al 35 per cento in nove mesi chi ad agosto ha pagato 445 euro per un prestito ventennale da 100.000 euro ne sborserà oltre 600 a giugno le nuove proposte a tasso fisso viaggiano oltre il 3 per cento un anno fa erano sotto l'1 per cento allora eh Paola qua innanzitutto molti ci chiedono ma questo articolo insomma immagino che tu l'abbia l'abbia vista l'abbia letto ti chiedevo un momento generale se questo allarmismo è giustificato e poi eh io immagino che chi ci sta seguendo da casa e a un mutuo si sta chiedendo ma cosa faccio lo porto adesso a tasso fisso se lo porto adesso è tardi e chi invece lo deve ancora aprire cosa dovrebbe fare insomma tante domande a te Paola eh beh diciamo così la premessa su tutte la gli interventi della BCE delle banche centrali in questo momento la banca centrale americana prima la BCE ora in termini di rialzo dei tassi sono interventi volti a raffreddare l'economia raffreddare l'economia vuol dire rallentare la disponibilità no e la possibilità anche di accedere proprio a ai prestiti per poter fare diversi tipi di investimenti vale per le imprese ma naturalmente vale per i privati e quindi per i privati il tocco diretto immediato è quello proprio della della possibilità di accedere ai mutui quindi diciamo che ci si aspetta eh globalmente a livello di sistema un rallentamento dell'accensione dei mutui proprio di conseguenza eh rispetto a di conseguenza rispetto a questo tipo di intervento della banca centrale quindi direi che purtroppo è eh ovvio ecco che ci si trovi di fronte a questa a questa problematica tuttavia è chiaro che se insomma direttamente coinvolti eh può diventare no è un elemento che può spaventare chiaramente il titolo come sempre è un titolo che punta sull'emotività e questo è eh un altro dato di fatto tuttavia è vero che le le rate dei mutui eh a tasso variabile inevitabilmente inevitabilmente andranno ad aumentare e andranno ad aumentare l'articolo poi lo racconta in maniera piuttosto chiara anche in funzione della durata durata residua del mutuo per cui chi sta pagando ha da poco attivato un mutuo variabile si vedrà incrementare di più le prossime rate perché la componente che sta pagando inizialmente il metodo alla francese eh classico che è il più diffuso è una componente dove gli interessi pesano di più del capitale quindi normalmente le banche hanno una una un proprio rendimento decrescente rispetto al mutuo quindi incassano gli interessi di più all'inizio e poi via via sempre meno quindi si rimborsa più interessi all'inizio e si rimborsa più capitale alla fine essendo la quota interessi più alta su chi ha appena iniziato ovviamente il peso sarà maggiore all'inizio se ti trovi nella parte finale del del pagamento del mutuo eh te ne accorgerai di meno insomma di questo incremento perché è marginalmente meno di minore impatto chiaramente chi si trova nel nell'ambito del tasso fisso ed è eh un tasso fisso già attivo quindi un contratto già attivato ovviamente adesso è protetto e al sicuro ed è proprio da questo tipo di situazione che si è messo al riparo chi ha scelto in partenza prima eh nei mesi scorsi negli anni scorsi di stipulare un mutuo tasso fisso. Eh ora eh come affrontare che tipo di eh di scelta fare rispetto ad un nuovo mutuo da dover stipulare oggi questa è no la la vera domanda quella che arriva anche su a noi di mass più frequentemente eh beh la scelta è comunque mh sempre insomma da valutare caso per caso e questo è la regola generale diciamo così che in in generale quello che ci si può aspettare è di vedere e lo sappiamo e l'abbiamo visto anche questo l'articolo lo commenta in questo momento un incremento anche della componente del tasso fisso al quale comunque appunto sono riconosciuti ehm in mutuo da tasso fisso quindi da un lato aumentano comunque le rate del variabile ma dall'altro il fisso di riferimento è comunque un fisso più alto di quello che non era in passato e e questo è anche questo che adesso chi invece aveva un fisso quello non cambia esattamente no no per chi deve attivarlo intendo dire quindi no ci troviamo di fronte a qualcosa che è più caro per tutti in assoluto detto ciò in questo momento eh diciamo che quando noi oggi attiviamo un mutuo e lo facciamo per almeno venti venticinque anni magari trent'anni il mutuo della casa allora è davvero complicato riuscire a prevedere su una scadenza così lunga il movimento dei tassi di interesse diciamo che eh oggi sappiamo che certamente i tassi di interesse stanno aumentando per una situazione contingente quindi per dover frenare un'infiammata inflattiva non è detto che questa situazione di tassi in rialzo di oggi e dei prossimi mesi sia una situazione destinata a perdurare per anni anzi probabilmente il livello dei tassi eh raggiungerà negli Stati Uniti e anche in Europa un eh livello tale da contrastare quindi da effettivamente eh rallentare la crescita dell'inflazione e a quel punto il rallentamento economico che ne conseguirebbe potrebbe indurre le banche centrali ragionevolmente a tornare in una direzione di allentamento monetario quindi di nuova riduzione dei tassi di interesse che a quel punto avranno anche no dei valori tali da poter consentire questo movimento di riduzione e quindi di allentamento di conseguenza non è detto che sia eh così eh duratura e così a lungo questa fase eh che che duri così a lungo questa fase di eh di tassi in rialzo ci sono tante forze è veramente difficile abbiamo detto tante volte la sfera di cristallo non ce l'abbiamo ma ci sono tante forze che incidono e che determinano ehm tutto questo e non è insomma lo scenario eh macro che stiamo vivendo oggi probabilmente non è uno scenario che giustifica eh di immaginare diciamo che la la crescita globale è una crescita ancora contenuta e quindi non ci troviamo in uno scenario in cui possiamo immaginare che dei tassi di interesse effettivamente tanto più alti possano essere conservati nel tempo perché quello potrebbe accadere laddove il mondo tornasse a dei tassi di crescita no di equilibrio che generino un equilibrio fra queste due forze quindi per farla semplice diciamo che è difficile immaginare questo per cui oggi soffriamo se abbiamo un mutuo tasso variabile attivo non è detto che nei prossimi due tre quattro anni non si veda viceversa nuovamente una riduzione di questa situazione e quindi nuovamente un alleggerimento eh del costo della rata ecco ehm pensando di attivare oggi e di fare la scelta tutto ciò premesso credo ancora che eh controllare con attenzione le le proposte rispetto al tasso variabile possano essere una scelta sbagliata ehm non è difficile ci sono come dire opinioni contrastanti in questo senso è difficile dare no una una voce unica ehm tuttavia il tasso fisso è fisso ed è tale ed è eh oggi è aumentato anche il tasso di riferimento l'IRS che è l'euro-IRS che insomma il valore rispetto al quale si vanno a calcolare i tassi lo spread quindi il l'extra costo che la banca ci applica rispetto eh alla alla stipula di un di un mutuo a tasso fisso eh vediamo un incremento anche di questo di conseguenza bisogna veramente soppesare esistono delle formule intermedie esistono anche dei mutui che hanno un variabile ma hanno un limite variabile col cap no quindi hanno un limite nella nel nel tasso raggiungibile dalla appunto nella nell'oscillazione raggiungibile dal tasso applicato a quel mutuo e questa è una variabile oppure esistono anche delle eh possibilità di mutui misti a tasso misto per cui ehm qualcuno faceva tempo fa non so se sono ancora così frequenti addirittura delle rate miste dove il tasso è parzialmente fisso e parzialmente variabile oppure più mh tradizionalmente i mutui a tasso misto sono quelli dove a determinate scadenze successive nel tempo è possibile scegliere l'alternativa tra tasso fisso e tasso variabile quindi diciamo che la persona si riserva nel tempo la facoltà di poter eventualmente modificare il tasso di riferimento quindi questa potrebbe naturalmente questo tipo di flessibilità le banche se lo fanno pagare quindi ci saranno degli spread un pochino più alti nelle nelle nei mutui che hanno questo tipo di di opzionalità è naturale e e quindi insomma ci sono però diverse possibilità così come rimane il fatto che eh sappiamo che è possibile fare la surroga del mutuo quindi se noi oggi siamo in una situazione ehm di un un tasso variabile che ci spaventa troppo e vogliamo provare ad optare per un tasso fisso perché ci tranquillizza perché oggettivamente no eh chiaramente il tasso fisso che ci dà una una garanzia di pagamento nel tempo da un punto di vista psicologico è rassicurante ripeto da un punto di vista finanziario non è detto che sia la soluzione in assoluto migliore però passare dall'uno all'altro eh passando da una banca all'altra è comunque un'opzione che oggi sappiamo essere possibile quindi la ringozione del mutuo rimane una delle attività che è possibile pensare di percorrere eh aiutami Marco cosa possiamo dire? No io credo che hai hai detto tutto ci sono anche soluzioni se non sbaglio che hanno la rata fissa cioè nel senso il tasso è variabile però quello che tu paghi è sempre quello e chiaramente poi maturano più interessi e li dovrai pagare per più tempo però hai la certezza di non andare in difficoltà eh se tu hai delle entrate fisse perché come dicevi bene all'inizio la vera valutazione è una valutazione personale molto difficile dire in modo oggettivo certo qual è la soluzione migliore per chi probabilmente ha delle entrate variabili e quindi in una situazione come questa di inflazione riesce ad aumentare le proprie entrate quindi far fronte a una rata maggiore quasi certamente il come come ci hai appena detto il tasso variabile è la soluzione migliore per chi ha un'entrata fissa beh bisogna stare attenti perché di calcolare bene ecco non regolare il mutuo su un momento in cui i tassi sono bassi esatto il tema della rata fissa io immagino già la risposta però io mi chiedo mi immagino no le persone a casa che eh magari sono andati in banca gli hanno consigliato il tasso variabile adesso si vedono questa rata che va su e dicono ah mi hanno fregato guarda qua se adesso l'avessi fisso però insomma ti immagino paolo che bisogna vedere tutta la rata cioè tutta la vita del mutuo magari per tanti anni hanno pagato molto molto meno e quindi ma sicuramente è così sicuramente è così cioè dei tassi dei mutui a tasso fisso stipulati no su dei tassi passati molto alti e poi sono stati assolutamente oggetto di surroga perché erano dei livelli al 5 6 per cento in anni in cui i tassi poi erano calati moltissimo quindi voglio dire poi ci si ritrova nella situazione opposta quindi è vero assolutamente anche il contrario oggi siamo in questo momento ehm il tema del del tasso variabile è ancora una volta chiaramente la il mix che stavi dicendo tu probabilmente è quello che può aiutare di più cioè partecipo con un tasso variabile all'andamento dell'economia così come l'economia tuttavia mi riservo la facoltà di avere una certa elasticità nel tempo perché non mi costa così tanto eh pensare di pagare eh un mese in più o due mesi in più ma mi costerebbe di più vedere appunto una un sul mio bilancio no mensile un cambiamento forte della rata nel breve termine per cui la rata fissa e la durata variabile sono un'altra cosa importante c'è da dire un tema nel momento in cui i tassi aumentano ehm per quale motivo così io io personalmente insomma sono più vicina ad un concetto di tasso variabile perché nel momento in cui i tassi stanno aumentando in realtà c'è una buona notizia cioè un investimento obbligazionario ha un rendimento più alto cioè dobbiamo pensare che il retro della medaglia è comunque che ovviamente no da un lato per poterci indebitare abbiamo bisogno di pagare degli interessi più alti viceversa se stiamo facendo un investimento l'investimento obbligazionario è maggiormente remunerativo di conseguenza quindi c'è sempre un altro lato della medaglia c'è sempre no e e la ragione per la quale io io così nella mia testa ancora il tema del tasso variabile alla partecipazione all'andamento economico del momento benissimo paola io ti ringrazio tantissimo per questo eh prezziore intervento ricordo a tutti che se poi volete approfondire capire ancora meglio questi temi ci rendiamo conto che non è facile noi ogni mattina cerchiamo di fare quella che io chiamo la coltivazione a goccia no ritornare spesso anche sugli stessi argomenti però inevitabilmente seguendo o le notizie o quello che eh voi stessi ci chiedete magari alle volte tendiamo a saltare da un argomento all'altro senza fare un percorso più ordinato e questo eh potrebbe non essere la soluzione migliore per chi vuole veramente imparare e capire queste dinamiche le dinamiche finanziarie la soluzione è molto semplice andate sul nostro sito trovate delle proposte formative chiaramente con una logica sono anche tutte a bassissimo prezzo e anche abbiamo cercato di concentrare gli argomenti perché sappiamo che anche il tempo è prezioso non è solo una questione di denaro ma se uno si trova 200 ore di corso poi difficilmente lo fa ma per essere degli investitori diciamo coscienziosi degli investitori che vadano a lungo periodo non c'è bisogno di fare 200 ore di corso basta sapere alcune regole importanti www.umas4.it fatevi un giro e se vi va mettete anche mi piace ai nostri video iscrivetevi al canale youtube che questo ci dà una mano con l'algoritmo e quindi magari chissà nella nostra speranza è quella di aiutare più persone possibili paola io ti ringrazio tantissimo con te ci vedremo domani domani risponderemo a una nonna che ci ha scritto e quando ci scrivono i nonni ci fa veramente piacere che pensa però già al futuro della sua nipotina quindi paola domani grazie buona giornata a tutti per oggi è tutto sigla